Parco urbano delle Cantine di Rapolla, evento che ha attirato migliaia di visitatori alla ricerca di sapori della tradizione, cultura e dello spettacolo. Antonella Pallante. Lo scenario, le 130 grotte ipogee di Fosso Tiglie e di Via Monastero, tra le più caratteristiche del Parco Urbano delle Cantine di Rapolla, che sul suo territorio ne conta in tutto oltre mille. I profumi, quelli dell'autunno, delle caldarroste, dei dolci a base di castagne, della carne sulla brace, dei grappoli d'uva lasciati a fermentare. Un tuffo nell'enogastronomia, ma anche nella cultura, con visite al centro storico e poi all'imprenditoria locale e alle terme. Momenti di spettacolo con falconieri, sbandieratori, arcieri e tanta musica, folklore e tradizione. Una formula che in due giorni ha convinto oltre 20.000 visitatori in arrivo anche da Puglia, Campania, Lazio e addirittura da Venezia. Presenze quest'anno, devo dire, sempre più in crescita. Gli ultimi cinque anni di questa manifestazione hanno visto questo evento trasformarsi da una semplice sagra paesana, locale, a un evento territoriale. Infatti è un evento che all'interno dei piani integrati di offerta turistica, quindi il Piot, che vuole valorizzare non solo Rapolla, perché si inserisce benissimo in un calendario di eventi del territorio del Vulture Alto Bratano, quindi un'iniziativa che vuol contribuire assieme alle altre a valorizzare questo splendido territorio. Tra le curiosità di questa edizione è anche la possibilità di avere castagni tutto l'anno, grazie all'idea di una giovane laureata lucana di Rioniero e le sue calamite dipinte a mano, un modo anche per inventarsi un lavoro. Ci dilettiamo un po' a inventarci qualcosa, visto che purtroppo la situazione è quella che è, sperando che migliori per tutti quanti.